I televisori Sony della serie R473 sono TV dotate di pannello LED Full HD. Il design è curato nei minimi particolari, la cornice di dimensioni ridotte aumenta l'esperienza visiva, mentre le finiture minimali donano un tocco elegante al prodotto. La parte posteriore è dedicata alle interfacce di collegamento, ingressi ed uscite sono numerosi e consentono di accoppiare il dispositivo con sistemi audio o video esterni in tutta facilità. Ci troviamo di fronte ad un prodotto dotato di grande multimedialità. Nota di merito va al collegamento MHL che consente di riprodurre facilmente contenuti da cellulari o tablet. Questa TV è dotata di un display Direct LED Full HD, capace di riprodurre colori estremamente realistici, con un'ottima luminosità e contrasto. La tecnologia Motion Flow XR 100Hz permette di rendere fluide anche le sequenze più frenetiche, eliminando completamente l'effetto after image, per regalarvi un'esperienza di visione perfetta proprio come al cinema. Le TV Sony della serie R473 sono ottime sotto ogni punto di vista, ideali per ogni ambiente e per gli amanti dell'intrattenimento.